Sono il dottore della povera Giuditta. Sono qui per denunciare la mia paziente. Chi vorresti denunciare? Tu? Maio! Chi vorresti denunciare? Tu non ho capito! Chi vorresti denunciare? A nessuno! Ecco! Torna subito qui! Tutta questa ginnastica mi ha proprio stancato! Mamma mia! Ora quello che mi ci vuole è una fantastica ricetta! Buon appetito miei cari fans! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono il dottore della povera Giulietta. Chi vorresti denunciare? Tutte! Chi vorresti denunciare? Tu non ho capito. Nessuno, nessuno. Allora, vai. No, vai, torna subito qua. Ehi scappa proprio. Vai, vai. Non ci sento in giù. Oddio. Quindi, niente, lui si è levato da solo. Me è levato da solo. E poi tu, quando arrivo qua, mi dica a me parla. Ah, perché? Ah, perché? Senza la regia in questo momento? Aspetta. Buon appetito! Che cazzo stai dicendo da me? Ma tu... Che cazzo stai dicendo da me? Che cazzo stai dicendo da me?